Il nostro inviato speciale Il nostro inviato che ha dimostrato alla sua nomina e che ha portato ad un primo importante passo in avanti nel processo politico con l'avvio dei lavori del Comitato Costituzionale inaugurato lo scorso 30 ottobre a Ginevra. Questa riunione di stamattina è veramente importante, sono veramente entusiasta per questi tre giorni che ci aspettano e sono sicuro che ne usciremo tutti più forti. Grazie al lavoro di squadra che fate, di cui da qualche mese faccio parte anche io. Grazie. Grazie a tutti.